Un'altra iniziativa messa in campo qui a Castellammare di Sabbia per sensibilizzare tutti i miei cittadini, tutte le persone che stanno rispettando quelle che sono le ordinanze, tutte le persone che stanno rispettando l'hashtag io resto a casa. Un momento di emergenza nazionale, un momento di emergenza cittadina. Questa è un'iniziativa che serve a sensibilizzare ancora di più la cittadinanza, tutti gli abitanti di Castellammare, andiamo avanti così tutti insieme che ci saranno sicuramente successivamente momenti importanti in cui potremo abbracciarci tutti e stringerci tutti quanti insieme. che fai rumore qui e non lo so se mi fa bene se il tuo rumore mi conviene ma fai rumore sì che non lo posso sopportare questo silenzio innaturale tra me e te.